Dottor Tavolieri, idee e progetti per questo nuovo ruolo con la Pescara Calcio? Di idee ne abbiamo diverse, io parto con un mio auspicio, cioè spero di essere impiegato il meno possibile. I progetti secondo me, io credo molto nell'equip, quindi io penso che con la dottoressa Spada, con il dottor Guarracini, con l'aiuto della parte strumentale che la Clinica Pierangeli ci offrirà, noi possiamo far sì che lo sportivo sia a suo agio, che lo sportivo subisca il meno possibile eventi traumatici e quindi infortuni, perché io, pur essendo un chirurgo, penso che la prevenzione sia il miglior modo di curare uno sportivo. Pescara è la mia città, quindi questa è la mia squadra e sono davvero emozionata. Lo staff, ho già avuto modo di avere contatti con lo staff sanitario e abbiamo delle grosse personalità, abbiamo il professor Tavolieri, i fatti parlano per lui, non c'è bisogno di dire molte parole. E poi anche il dottor Guarracini, che è il primario della cardiologia della clinica Pierangeli. Quindi spero e credo che faremo un gran lavoro e un gran lavoro di equip.